Bella ragazzi io sono Martex bentornati sul nuovissimo video mattutino Quest'oggi la lobby è magnifica devo assolutamente dirlo perché ragazzi inaspettatamente hanno aggiunto un nuovo cavo Intanto qui a destra abbiamo il messaggio che tutti quanti stavano aspettando finalmente ragazzi Tempo di inattività programmato il periodo di interruzione di servizio per la patch 12.60 inizierà alle 2 in start time Ovvero alle 8 del mattino i server andranno offline E quindi per tutti coloro che volessero seguire i nuovi leaks ogni singola cosa che verrà aggiunta quest'oggi tramite la patch Ragazzi sappiate che sarò in live dalle 8.30 circa Comunque il cavo che ci ritroviamo quest'oggi alla sinistra ragazzi è pazzesco guardate quanto si muove Ovviamente poi più passa il tempo più passano i giorni e più è il flusso di energia che viene trasportato tramite questi cavi Che continuano ovviamente tramite il pass battaglia Guardate qua ragazzi guardate questa stanza Ma quale stanza questa è una mega sala ragazzi miei andiamo anche qui sezionagenti e clicchiamo su mida Ok No raga Io impazzisco guardate lassù Va a finire che quest'oggi vadano ad attivare la sfera raga Me lo sento Me lo sento Che cosa sta toccando lì Martex Che cos'è Che cos'è Come ogni cosa ho anche il mini doomsday che mi accompagna in queste giornate atroci senza update Ho avuto finora il mini cubo Kevin ragazzi Bellissimo Kevin uccio nostro sempre nei nostri cuori E adesso ragazzi volete che non abbia anche questo bellissimo aggeggio Ragazzi miei spostiamoci subito nello shop giornaliero Quest'oggi non posso rubarvi troppo troppo tempo Parleremo di tantissime cose nei prossimi video Non vedo l'ora di portarvi nuovi contenuti Questi tubi questi cavi mi stanno facendo impazzire Sono troppo belli Stanno all'estendi in una maniera eccezionale questa lobby Quindi Negose oggetti Questo è lo shop di oggi Magiac Paradosso Ecco gettano un'altra volta questo set No Cromo Ranger ricognitor Vabbè Allora a livello di emot ci siamo Carine Partiamo da autostoppista e guardando l'immagine No non è quell'emot del pass battaglia che fa così assolutamente No però ci assomiglia un sacco Eccola qui Stagione 5 Ok Guarda come si diverte lui questo nostro pesce secco Adesso ti voglio con ballo elettrico vai Questo stagione 1 raga Mamma mia Vorrei quello del pass battaglia stagione 2 Bellissimo E poi giubilo Raga una delle migliori emot non so quante volte viene utilizzata Nelle mie scenette Quelle che facevo un tempo Allora qui dobbiamo analizzare qualche skin Perché abbiamo cromo ed è troppo troppo bella Se non era uscita nella stagione 4 non guardo Eccola lì infatti ragazzi vi giuro non ho guardato Ve lo giuro Troppo bella Quando uscirono queste skin mi ricordo C'era magazzino muffito tutto tutto distrutto E queste venivano reputate Sia lei che quella maschile Delle bellissime skin super aggressive In realtà lo sono ancora eh 1200 V-Bucks per lei Ranger ricognitore 800 V-Bucks Scatenata non la vogliono droppare E lo so Lo so Tu caro traiardone del mio canale Stai aspettando Scatenata e rompighiaccio Per dominare ogni singola lobby Che ti viene proposta Però purtroppo Cosa devo dirti Fratta le 0 500 V-Bucks Per questa bellissima wrap Ragazzi Davvero bello questo effetto 500 V-Bucks Ci sta Ci sta ragazzi Ma cacca ragazzi Se vogliamo andare di ignoranza È la top skin Davvero molto bella Anche il backpack Niente male Però davvero Fighissimo questo pupazzetto Un po' inquietante Devo dire Devo dire la verità È un po' inquietante Però Adesso però ragazzi Devo andare a controllare quel set Che purtroppo E dico purtroppo Non mi fa impazzire Partiamo dalla skin Ok Primo stile E secondo stile 1200 V-Bucks Lo zaino no Lo zaino assolutamente no Non lo so ragazzi Non mi convince Andiamo avanti Le lame Voi sapete che io Sono anti doppia lama Non ce la posso fare Ragazzi I due picconi I doppi picconi Sembra che rendano Il personaggio Un po' più lento L'avrà Assolutamente no Stra stra bocciata Subito bocciata 300 V-Bucks per lei E poi il daltavrano Qui devo essere positivo Primo stile E secondo stile 800 V-Bucks Credo che sia l'unica cosa Che mi piace di questo set Anche se fa un macello Esagerato Quando viene schierato Trina la si ama Primo stile Secondo stile Tutte e due bellissimi Questa qui un po' Non lo so Sembra troppo troppo Teenager Nella seconda Abbiamo il backpack Che non credo che cambi Con la seconda versione Assolutamente no 1500 V-Bucks Per lei Troppo bella ragazzi Visione L'han droppato Divertitevi ragazzi Sound base Ma ci sta Il design di questo piccone È meraviglioso Equilibrista Normalissimo Niente da dire Niente di che ragazzi Normalissimo Paradosso Bella skin Una skin maschile Con la quale potete Trajardare Potete trajardarci Come sempre vi ricordo Che se volete potete Supportare tutti questi video Mattutini Cliccando qui in basso a destra Sulla voce Supporto a un creatore E digitando poi Al centro della schermata Il mio code JKR Martex Tutto attaccato Maiuscolo minuscolo E sempre uguale L'importante è cliccare qui Su accetta E riaggiornare il code Ogni 14 giorni Ragazzi miei Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se così fosse Mi raccomando Lasciate un bel like Condividetelo con tutti I vostri amici Iscrivetevi al canale Se ancora non siete iscritti E noi ci becchiamo Tra pochissimo Nella live matutina Dell'aggiornamento 12.60 Un salutone da me Martexone E dal nostro Kevin E'o Super felato finale E niente SIA BILDS